Sono stati pubblicati sulla gazzetta ufficiale i bandi di gara per i lavori di adeguamento strutturale del viadotto ritiro sulla tangenzia di Messina e per la messa in sicurezza delle gallerie Capodorlando e Tindari sulla Messina-Palermo. In riferimento a questi ultimi due interventi si tratta di una notizia molto attesa per il comprensorio, visto che da oltre un anno e mezzo sulle tratte tra Brolo e Rocca e tra Patti e Falcone si transita su una sola corsia. La vicenda risale al dicembre 2012 quando a seguito di un'inchiesta della procura di Patti le due gallerie vennero sequestrate perché considerate il rischio crollo. Si indagò sulle condizioni di sicurezza dell'autostrada dopo i numerosi incidenti mortali che si erano ripetuti con drammatica continuità, numerosi gli articoli di stampa che facevano rilevare le criticità dell'intero tratto compreso tra Falcone e Acquedolci. E proprio su questi chilometri la procura ha concentrato le sue indagini ponendo sotto la lente di ingrandimento le varie gallerie, i viadotti, la segnaletica e il manto stradale. Quella percentuale sugli incassi che il consorzio avrebbe dovuto spendere esclusivamente per la sicurezza pare che in realtà non fosse mai stata impiegata o comunque con interventi di gran lunga inferiore rispetto alle esigenze. E così si sta cercando di verificare un eventuale nesso causale tra i mancati interventi e i numerosi incidenti stradali diversi mortali. Adesso il CAS ha deciso di intervenire per la galleria Tindari. L'importo a base d'asta è di circa 13 milioni e 700 mila euro, mentre per la Capodorlando è di 10 milioni e mezzo. I lavori consistono nella messa in sicurezza di ciascuna galleria, sia a monte che a valle, per il consolidamento delle pareti e delle calotte, la decolificazione e l'adeguamento degli impianti tecnologici, quindi ventilazione, illuminazione e antincendio, alla normativa vigente. Tanto atteso anche il bando per il viadotto ritiro. Qui l'importo a base d'asta è di ben 60 milioni di euro per interventi di adeguamento statico e miglioramento sismico, con previsione di rinforzo delle pile, fondazione e sostituzione degli impalcati con tipologia e schemi strutturali, tutti di nuova concezione. Solo dopo questi interventi sarà finalmente possibile riaprire l'intera carreggiata, la cui chiusura ormai da diversi mesi provoca lunghi incolonamenti in direzione Boccetta, ma soprattutto si potranno agganciare gli scivoli per aprire in uscita gli svincoli di giostra, un'opera conclusa solo a metà, e migliorando così sensibilmente le condizioni del traffico cittadino. I lavori per il viadotto e per le due gallerie avranno un costo totale che si aggira intorno agli 85 milioni di euro, di cui oltre 30 milioni a carico del CAS con fondi propri. Le commissioni di gara saranno nominate dal Ministero delle Infrastrutture, la prima seduta è fissata per la Tindari il 25 settembre, per la Capodorlando il 26 settembre e per il viadotto ritiro il 9 ottobre prossimo.